Il gruppo Renault chiude in positivo l'anno 2018. All'interno di un mercato in calo, il marchio francese si conferma attore economico importante nel nostro paese, la quarta marca di autovetture più venduta per il quinto anno consecutivo. Sulle strade italiane, un'auto su dieci appartiene al gruppo Renault, che deve il suo successo ad alcuni modelli chiave. Con oltre 52.300 immatricolazioni in un anno, Clio si conferma bestseller Renault, conquistando il titolo di auto straniera più venduta nella penisola per il terzo anno di fila. A secondo posto si installa Captur, il B-SUV straniero più venduto nel nostro paese, mentre terza esce Nik, la monovolume compatta più richiesta in Italia. Ottimi risultati anche per Dacia, che guadagna una posizione rispetto al 2017, stabilendosi come un dicesimo marchio più acquistato sul territorio italiano. Dacia deve la sua crescita continua ai modelli Sandero e Duster, quest'ultimo è il SUV del segmento C più diffuso tra i privati. Renault è leader anche tra i veicoli commerciali, confermandosi terzo marchio più venduto in Italia per il quinto anno consecutivo. L'obiettivo 2019 del gruppo Renault sarà quello di mantenere la propria quota di mercato attorno al 10%, ponendo al centro il cliente, ampliando l'offerta dei servizi post vendita, introducendo nuovi strumenti digitali e concentrandosi sulla nuova mobilità. L'elettrico in particolare rappresenta una voce importante per quanto riguarda aziende e car sharing, dove i veicoli Renault coinvolti sono già 500. Anno dopo anno i risultati positivi dimostrano la costanza del lavoro del gruppo Renault, per il quale l'Italia è un mercato chiave, il quarto al mondo.